Questa sera vi porto con me al cinema, o forse a letto? Il biglietto durante il weekend è 1200 baht, mentre durante la settimana è 1000 baht e provvede non solo il biglietto d'ingresso, ma anche l'all you can eat a drink. C'è una lampadina, telecomando per il letto, in un posto che puoi posizionare le tue cose e anche caricare il cellulare. Coperta e pantofole usaggetta. È tempo di rassarci fino a saper cominciare. Fatemi sapere che cosa ne pensate, mi converte. Ciao!